Oh, bisogna arrivare anche. Giulio Cesar, Tollo Orlandoni, Quiscito, Juan, Bianculotti, Uffalugi, Materazzi, Castellini, Molinaro, Stendardo, Conti, Senor, Farnirò, Pisano, Vedesma, Leop, Sagli Amisi, Papa Vaigo, Trezegueto, Flores, Suaggio di Michele Pistano. Possibili boom e voto finale. Sei e mezzo, sei e mezzo, buono, buono. Il Cora torne, che cosa è che c'è il quarto. Fredi, Lupatelli, Amr, Domizzi, Carottieri, Mexes, Radio Adriano, Mexes, Bel Ragazzo, Dainelli, Caca, Amsic, Paro, Tadei, Leceglie, Gudianschi, Emerson, Magnini. È difficile da puntare, è difficile da puntare la situazione. Attacco? Io che amvite il campionato ho detto questa roba. Allora? Voto? Cinque di cima. Cinque di cima? Vai, vai. Chi è qua, Nesta? Io, io, io. È, Maurista. Fontana, Gli Albi, Sereni. Balzani, Terlizio, Oddo, Talamonti, Capu, Pasqual, Modesto, Zauri. Buono. Stancovi, Zerbi, Costigna, Rosina, Pillo, Molone, Viverani, Costa, Amauri, Adriano, Tavano, Vucivici. Vucivici! Vucivici di Natale. Cos'è sta roba? Quella qua arriva ultima. Io, povero. Pericolosi. Vai, vai. Vai, vai. A parte l'anno scorso con lui. Poi? Adio, vedi. Buffon, Berardi, Rastratten. Fabio, Spidano, De Rosa, Totto, Panuzzi, De Birà, Bellini, Grandoni. Giacomatti, Mondolingo, Valuti, Alfreson, Alfreson, Figo, Fini, Mauri, Diana. Piero, Pompera, Spinesi, Reginanzo, Zampagna, Palladino. Cos'è sta roba? Questo qua arriva al quinto. Quinto. Finanza. A chi è il primo chiedevo? Doni, Curzi, Bassi. Andrade, Lopes, Galate, Perfetto, De Maggio, Felipe, Portanova, Comodo. Che nomi. De Rossi, Foggia, De Rossi, D'Agostino, Toras Rossi, D'Agostino, Totti, Vento, Alginaldino, Belluzzi, Calaioli, Vaio. Come? Qua arriva a terzo. No! No! Tertzo. Andanovi. Nesta saprà da chi un tonetto canale del Samo di Maddini Sissigno. Aquilani, Tiago, Pizarro.